Ciao a tutti ragazzi e ragazze e bentornati sul canale di SpaceNutsGaming oggi ci troviamo qui dopo un secolo di tentate e volte di poter provare finalmente il Conte Duku ossia il personaggio che è uscito da pochissimo con questo ultimo aggiornamento e finalmente come ho appena detto dopo un sacco, ripeto un sacco, vabbè che inizio di merda e dice un sacco di tempo ho potuto provare e questa sarà la seconda volta che provo il Conte Duku come vedete le specialità sono queste che se volete mettete in pausa così potete leggere e conoscere al meglio le abilità del Conte Duku detto ciò partiamo, speriamo di non cadere di nuovo come dei deficienti ecco, proprio a me toccava fare il bersaglio sia chiaro, non è che sono bravissimo ancora a giocare con il Conte Duku perché ripeto, è la seconda partita che provo ad utilizzare il Conte quindi non potete venirmi a dire che sono... faccio cagare... sono... oddio, 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 oddio ci vi rendete conto ragazzi che giocatore ho? cioè non riesco a fare neanche un metro che crepo subito poi loro, sia chiaro, sono giocatori che hanno dei livelli altissimi questo qua sarà neanche a livello 2, quasi al 3, quindi... voilà, folgorato bene bene voilà, ecco, mi sono vendicato per prima così imparano vabbè Obi-Wan Kenobi, Lando Carlissian, Skywalker non lo so cosa volete ancora però intanto il mio l'ho già fatto ci sto anche prendendo la mano ragazzi non vi preoccupate togliendo l'inizio DM che lasciamo veramente perdere perché era proprio, ma proprio deludente al massimo dai Darth Maul, fatti valere che parole ragazzi, che parole il mio personaggio preferito, Lando, è morto aia, non va bene parliamo un po' del Conte Duku, per chi fosse interessato il Conte Duku non è nient'altro che un ex apprendista perché perché all'epoca il Conte Duku era un apprendista geni sotto appunto il maestro Yoda il maestro Yoda, come molti sapranno praticamente è uno dei tanti maestri che hanno addestrato, vabbè, Skywalker hanno addestrato in questo caso anche il Conte Duku stesso e così via e in questo caso il Conte Duku cosa è successo? in una battaglia che non mi ricordo bene in quale pianeta sia vedendo che appunto alla fine i Jedi non si aiutavano a vicenda si è praticamente sentito abbandonato a se stesso fatto sta che ha deciso di abbandonare l'ordine Jedi e diventò così un Sith questa era la storia per quanto riguarda il Conte Duku lo vediamo in moltissime cose nel secondo episodio nella serie cartoni poi in questo caso anche nel terzo film se o no nei primi dieci minuti del film ossia nella vendetta dei Sith dove però il Conte Duku morirà voilà ciao Darth Maul perchè perchè parlano in tedesco o parlano in inglese o parlano in tedesco ragazzi non capisco no Skywalker poi dai calci così non c'è nessuno ma lui dai calci vabbò vorrà far vedere che è bravo a dare i calci bravo a far karate cosa ne sappiamo ragazzi è così il nemico non deve servare la benchettina ma vedrà infatti hai visto quando l'hai resa facile sei morto in pochi secondi che cosa si è riconosciuto mmm vuoi farlo vorrei trollare un po' un giocatore però non riesco sei prevedibilmente avversario marcato avversario identificato scusate se parlo poco ma mi sto concentrando e voilà seccato voilà oh ci sto prendendo la mano eh togliendo il patente che un inizio di prima no 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 conte ducu no eh non fare così dicevo il patente che un inizio di prima fare un bel po' di punti ci sta no 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 dai su yoda il maestro in questo caso ha ucciso l'apprendista in quanto yoda era l'ex maestro del conte ducu eh vabbè anche se nell'episodio 2 di star wars il conte ducu gli ha fatto abbastanza il mazzo vabbè questo è morto veramente ma veramente male intanto vittoria attenzione eh beh secondo non male non male non male bravo 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 mi faccio i complimenti da solo bene ragazzi avete visto le prestazioni del conte ducu che comunque è veramente ma veramente bello lo consiglio a tutti di poterlo provare se riuscite a provarlo perché è veramente raro poterlo utilizzare infatti io ho avuto una botta di fortuna di poterlo utilizzare per la seconda volta rendetevi conto e niente il video si conclude qua vi ringrazio ancora per la visione lasciate un bel mi piace come sempre condividete il più possibile e ci becchiamo in un prossimo video ciao